Invece l'Italia c'è l'imino alla prima casa, la seconda casa e gli immobili ecclesiastici. Io se sono dipendente ho una certa tassazione, se sono autonomo ne ho un'altra. È la tassazione dei mille particolari. Alla fine però un sistema così è incasinato e però anche coordinato. Se tu cambi un punto, gli altri crollano. L'economy continua, è il prodotto di qualsiasi micro lobby, a partire dai preti ovviamente per primi, che micro non sono, sono macro lobby, che sia riuscita a mettere le mani su otto deputati e tre senatori, nel tempo si è costruita il privilegio fiscale. E il giochetto è quale? Poi sono tutti a dire ma la tassazione sul lavoro, sui redditi da capitale industriale, il cuneo fiscale sul reddito lavoro è gigantesco. Per forza, perché il lavoro organizzato e trasparente della grande impresa è l'unica lobby che in Italia non è riuscita a trovarsi in esenzione fiscale. Ed è quindi l'unica tassazione e la raggince alla fine del declino italiano. Perché se la fonte della crescita è anche l'unica cosa tassata seriamente, la fonte della crescita dice che basta. E anche basta. E ne vado da un'altra parte.